170 tatuatori internazionali, mostre, concerti e performance acrobatiche. Nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli, da venerdì 29 giugno, prenderà il via la nona edizione del Napoli Tattoo Expo, la tre giorni dedicata alle nuove espressioni artistiche legate al mondo della body art, organizzata dall'Associazione Culturale Napoli Indelebile. Siamo arrivati finalmente alla nona edizione, finalmente faccio vedere che anche Napoli è capitale d'Italia sul tatuaggio e sull'arte in generale. Con un ricco programma di eventi, la manifestazione coniuga la passione per l'arte del tatuaggio ad iniziative di svago e solidarietà. Sono previste esibizioni musicali, concorsi a premi, gare di hip hop ed uno stand per la raccolta fondi per l'Associazione Mattia Fagnoni, che sostiene la ricerca sulla sindrome di Sendhoff, una rara malattia neonatale. Accendere i riflettori su questo tipo di patologia è sempre un evento importante e se fatto insieme alla mostra del tatu diventa ancora più di evidenza pubblica e ciò ovviamente non può che far piacere a noi, all'istituzione, non possiamo che stare vicino all'evento. In questi tre giorni porteremo una piccola raccolta, quindi ci saranno una cinquantina di opere in visione, in più ci saranno altri artisti che partecipano alla convention, che dipingono, che fanno i tatuaggi, metteranno a disposizione dei loro disegni e poi verrà fatta un'asta di beneficenza. Quindi chiunque volesse partecipare può venire alla convention e iscriversi all'asta, oppure andare sulla nostra pagina Facebook Mattia Fagnoni Onlus, oppure al nostro sito e lì ci sono tutti i contatti e tutte le informazioni.